Qui vi presentiamo le 5 migliori antifurti per auto. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Mondo commercio GPS Tracker TK104. Nascosto in qualsiasi automobile, funge da sistema di allarme satellitare con la possibilità di ostruire il motore. Ti consente quindi di riconoscere costantemente l'area specifica in cui si trova l'automobile. È anche possibile inviare automaticamente un messaggio non appena l'auto inizia a trasferirsi. Allo stesso modo ha una funzione di allarme quando il limite di velocità viene superato. Passando al numero 4. Cora 000103020 Superbloc antifurto blocca volante per auto. Evita che il volante si trasformi rendendo impossibile guidare l'automobile. Può essere posizionato in un paio di secondi su volanti con un diametro interno da 28 a 34 cm, nonostante abbia un diametro della corona superiore allo standard. Si integra elegantemente con l'interno di qualsiasi auto, anche una delle più distinte. Non è ingombrante e può anche essere ripiegato su se stesso, consentendoti così di tenerlo sempre in giro. Prodotto in lega di alluminio e acciaio, presenta tre segreti a doppio bit non replicabile. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Freso antifurto per auto. Con un paio di mosse di base fissa i freni e anche gli ingranaggi nello stesso momento. Realizzato in acciaio inossidabile e lega, è antitarsio, per fornire la massima sicurezza. Il suo design ergonomico e compatto ti consente di migliorare l'area di montaggio, oltre a renderla davvero semplice da acquistare. Le sue misure sono 350 x 190 x 70 mm e il suo peso è di 1,6 kg. Almost at the top of all list at number 2. Bullock 146162 X Challenge e blocca pedale. I suoi ganci bloccano istantaneamente i pedali del freno e della frizione assicurando una sicurezza ottimale. Grazie all'utilizzo di acciaio carbonificato solidificato, è resistente alla riduzione e anche al pierge. Ogni dettaglio è salvaguardato dall'ossidazione con zincatura e strato di polvere. Il gadget di chiusura è anche protetto da un anello seager che lo protegge dagli assalti di estrazione. Il piano include due trucchi per numeri telefonici e un manuale di istruzioni. E infine il numero 1 della nostra lista. Clean Metal, antifurto per auto con barra di blocco a bloster. È un allarme out con barra di blocco a bloster. La sua struttura è particolarmente sostanziale, il che è un buon deterrente contro le persone dannose e vengono fornite due chiavi. Allo stesso modo è estremamente semplice da posizionare ed anche eliminare. Con la sua dinamica tonalità gialla non passa certo inosservato nemmeno agli occhi dei LAD. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.